Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, finalmente video dei prodotti finiti, dico finalmente perché così riesco a cestinare insomma tutte le confezioni che ho tenuto da parte non credo che sarà un video lungo perché i prodotti non sono tantissimi, però insomma partiamo subito così, sono molto soddisfatta perché sono comunque riuscita a terminare un bel po' di roba che ho messo dentro questo sacchetto e partiamo subito, allora ho terminato questa crema, in realtà io dovrei tagliare la confezione e cercare di recuperare quello che c'è qui sulle pareti, vediamo un attimo allora di Yves Rocher, questa è, cominciamo a mettere gli occhiali perché non vedo un tubo, quindi questa è una crema, un latte nutriente intenso al burro di karité per pelli molto molto secche questa mi era stata regalata, madonna oggi, che cos'ho, da Amarillis del canale Cuba Libre che saluto con tanto affetto e insieme a tante altre cose che mi aveva mandato, mi ha mandato anche questa crema e beh che dire, io adoro i prodotti di Yves Rocher, ottima profumazione, idratazione totale, io ho la pelle molto molto secca quindi esistono tantissime altre profumazioni, stra stra consigliata, un prodotto che certamente riacquisterei poi abbiamo terminato di Beyoncé della linea Purity questo sapone liquido igienizzante e purificante con aloe vera per le mani devo dire che mi è piaciuto moltissimo, la profumazione mi piace tantissimo ho preso un'altra confezione da portare in negozio ovviamente non è nel senso, uso questo prodotto ma continuo ad utilizzare il gel igienizzante sempre perché questo lo uso esclusivamente per lavare le mani, perché bisogna lavarsi le mani va bene qualunque tipo di sapone, ovviamente, ma ultimamente noi abbiamo utilizzato questo e ci siamo trovati bene poi devo cestinare, non l'ho portata totalmente a termine, questa schiuma adorn per i capelli che si chiama testa fra le nuvole allora il prodotto in sé per sé è buonissimo mi piace come agisce sui capelli, insomma definisce bene i ricci purtroppo sono diventata forse intollerante alla profumazione amavo questa profumazione follemente e proprio mi dà la nausea e mi sento veramente male e quindi niente, mi ritrovo a doverla cestinare perché non so a chi poterla dare poi, udite udite, tenetevi forti, sono riuscita a terminare, non ci posso credere questa acqua profumata della linea Aquolina Nutri ed è la versione della pappa reale e fiori d'arancio ce l'avevo da un bel po' di tempo, devo dire la verità però ultimamente mi andava ad indossarla e l'ho portata a termine e sono felicissima molto buona, buona profumazione, super persistente tra l'altro non aveva nulla di pappa reale nel senso che questo profumo, quest'acqua profumata sa di mandorla all'inizio tantissimo, proprio di orzata e poi fiori d'arancio a go go buonissima, consigliatissima che non ricompro perché... no cioè, voglio comprare adesso profumi o acque profumate che mi fanno veramente perdere la testa poi ho finito questa meraviglia che ricomprerò quando avrò portato a termine non so quanti altri boccioni di scrub per il corpo allora, questo è il Body Scrub di Organic Shop al cioccolato del Belgio fantastica profumazione belli grossi i granuli per uno scrub pazzesco con questa consistenza leggermente oleosa un prodotto naturale per il quasi 100% con cacao bio e zucchero un zucchero di canna, credo che sia un prodotto fantastico che scrubba benissimo una profumazione pazzesca quindi esistono altre profumazioni le proverò senz'altro poi ho terminato lui che ho amato e che riacquisterò sperando di poter tornare da Lidl di CN Professional ho terminato questo prodotto insomma questo balsamo della linea Oil Care Intensive Care con olio di macadamia questo è famosissimo mi sono trovata non bene di più quindi questo è un prodotto che senz'altro riacquisto è un olio nutriente un trattamento intensivo grazie alla particolare formula arricchita con prezioso olio di macadamia il trattamento intensivo Oil Care dona ai capelli maggiore morbidezza ed elasticità si applica dunque sui capelli umidi come un qualunque balsamo insomma crema trattante e si tiene su un po' di minuti e poi si risciacqua oggi è l'ultima volta che io l'ho utilizzato prodotto splendido perché fa i capelli belli morbidi si possono pettinare spazzolare con facilità belli lucidi quindi prodotto low cost non promosso promossissimo dopodiché allora no questo scusate no non so che ci faceva qua in mezzo ho terminato un'altra confezione di queste ampolline di balea queste al coenzima Q10 questo antirughe questo trattamento con vitamina E che va ad agire in profondità grazie al coenzima Q10 e va a contrastare la formazione delle rughe la secchezza della pelle e io adoro follemente questo prodotto sono delle ampolline piccolissime che si rompono hanno questa consistenza molto molto densa e oleosa e io le ho usate solo la sera perché la consistenza è veramente molto molto grassa per cui di giorno è veramente improponibile devo dire che io i risultati sulla mia pelle li sto vedendo e come io non ho un filo di fondotinta sulla pelle ho solo messo un po' di terra e non ho mai avuto la pelle insomma così tranquilla da non aver la necessità di doverla coprire con strati e strati di fondotinta quindi consigliatissime queste ampolline dopo di che io non capisco perché sono arrivati dentro questo questo questa busta ci sono delle creme che non ho terminato non so perché si trovino qui dentro vabbè comunque proseguiamo poi ho terminato di sun silk della linea by Aranasti questo trattamento intensivo one minute wow scintille di luce per capelli crespi e spenti ed è questo prodotto qui che hanno dei packaging così accattivanti questi prodotti mi piacciono un sacco allora questo è tutto il potere di un trattamento intensivo in una formula d'azione ultra rapida per capelli extra brillanti idratati e setosi in un solo minuto allora questo prodotto non fa i miracoli devo dire che a lui preferisco di gran lunga il prodotto di Sien che costa anche tre volte meno però non lo boccio non lo boccio perché comunque questo effetto un po' glossy sui capelli c'è mi piace moltissimo la profumazione non ha questo elevatissimo potere di stricante però non posso neanche dire che il prodotto non è valido però non lo ricomprerei perché il prodotto di Sien è decisamente più valido per quanto ovviamente per quanto mi riguarda poi ho terminato questa meraviglia che mi aveva regalato Sara Saretta un bacione grande a te tesoro il mondo di Sara mi raccomando andatela a trovare sul suo canale sempre di Organic Shop questo shampoo organico questo shampoo illuminante effetto glossy sui capelli ed è un prodotto naturale per il 99% allora questo shampoo è uno shampoo splendore di seta ed è formulato per dare ai capelli un'eccezionale morbidezza e un tocco setoso abbiamo burro biologico di Carité che va di trattare i capelli a renderli più brillanti e più flessibili e l'estratto biologico di giglio d'acqua che nutre e rende i capelli diciamo belli qui dice lisci in realtà se utilizziamo un prodotto che all'interno che ha la specificità per i capelli ricci abbiamo lisci e abbiamo i capelli ricci di certo i capelli non vengono lisci però l'effetto sui miei capelli a me è piaciuto molto devo dire non mi aspettavo da uno shampoo diciamo con questo tipo di inci di trovarmi così tanto bene proverò delle altre profumazioni lava benissimo non irrita il cuoio capelluto fa una bella schiuma morbida e lava perfettamente i capelli quindi super promosso poi sempre prodotto per capelli ho terminato finalmente dico finalmente perché oh non finiva mai questo è un prodotto professionale si chiama Catwalk by TG ed è la Curls Rock Amplifier è una crema per capelli ricci è una crema che si può utilizzare sui capelli umidi e sui capelli asciutti io l'ho sempre usata sui capelli umidi perché l'unica volta che l'ho usata sui capelli asciutti sembrava di aver messo il mastice sui capelli troppo troppo fibrosa troppo spessa troppo forte invece sul capello umido l'effetto è veramente pazzesco quindi questo è un prodotto che certamente riacquisterei ma che non riacquisto perché ho trovato i miei prodotti già giusti per i miei capelli ho terminato l'ennesima confezione di questo meraviglioso deodorante un deodorante di Nier che trovo da Eurospin questo è iconico secondo me è mitico perché è eccezionale come prodotto la linea delicato con olio di avocado senza alcol unisex dura per 48 ore è un prodotto per le mie esigenze efficacissimo e mi piace molto la profumazione poi vediamo vediamo cos'altro abbiamo terminato non ci crederete ma truccando solo gli occhi io sto insistendo molto con il mascara mi piace quando indosso la mascherina magari enfatizzare lo sguardo visto che adesso possiamo così serenamente liberamente truccare gli occhi io personalmente evito di truccare il viso non metto il rossetto oggi ce l'ho perché sto registrando io ho terminato tre mascara allora ho terminato lui l'Otra Juice Curl di Sephora era finalmente giunta l'ora di terminarlo perché si era veramente seccato quindi l'ho consumato fino all'inverosimile e questo qui certamente quando finirò quelli che ho in uso potrei riacquistarlo perché è un mascara ottimo sulle mie ciglia io ho poche ciglia non sono folte sono corte devo dire un effetto super ventaglio super wow ho terminato lui che è lo step by step di Wicon che invece non mi è piaciuto più di tanto ha uno scovolino veramente gigantesco un applicatore veramente gigantesco e non mi ci trovo più bene poi comunque si era anche fatto molto molto secco ho cercato di utilizzarlo più che potevo però ecco l'effetto sulle mie ciglia non mi è piaciuto e poi ho portato a termine ma mi c'è voluto poco perché in realtà ero ormai sul viale del tramonto il Day Unreal di Benefit questo mi piace molto però devo dire che non lo riacquisterei perché utilizzo dei mascara molto più economici e molto più performanti sulle mie ciglia ovviamente parlo per me e poi ho terminato questi due prodotti che ho voluto terminare forzatamente ma non perché non mi piacessero perché devo terminare anche loro altrimenti li devo cestinare perché andranno a male tutti i vari fissanti per il make up quindi proprio volente o non volente me li spruzzo dopo che mi do una truccata anche se trucco solo gli occhi metto magari un po' di blush un po' di terra e li spruzzo così li porto a termine però devo dire che questo in particolare il primer fix di Kiko è un prodotto eccezionale eccezionale perfetto come primer e stra perfetto come fissante per il make up dà un effetto né troppo asciutto né troppo luminoso tiene a bada il make up proprio perfetto tutto il giorno e come primer funziona benissimo quindi questo lo riacquisteremo non lo riacquisto perché ne ho veramente tantissimi altri e poi l'ho utilizzato proprio come un vero e proprio tocco di idratazione sulla pelle questo prime studio hd hydra questo primer spray di essence questo è un prodotto non dico datato ma credo dell'anno scorso ma suppongo che si trovi ancora sui vari stand di essence e lo applico diciamo l'ho applicato prima di procedere al trucco come ulteriore step di idratazione visto che in questo momento la mia pelle è veramente super secca quindi più idrato e meglio è anche questo un buon prodotto devo dire ma che sinceramente non riacquisterei più perché è cambiato anche il mio modo di truccarmi il il mio modo di gestire i prodotti di make up o non so quanti flaconi di fissanti per il make up ho acquistato in tutti questi mesi e anni quando poi in realtà è lo step che dimentico sempre che mi devo imporre quindi basta fine non ne acquisto più e cercherò di portare a termine quelli che già possiedo dunque video finito durato veramente poco sono contenta perché ultimamente faccio sempre video lunghi 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 e niente io spero tantissimo vivamente di avervi fatto compagnia e vi aspetto al prossimo video e vi mando tanti bacini ciao 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 ciao